Ha parlato Demiral e ha detto che la differenza tra Juve e Atalanta è che a Zingonia ci sono degli allenamenti più duri dal punto di vista fisico. Lo so nel senso che ho sempre saputo che Gasperini è una specie di tritacarne per i giocatori e li fa letteralmente sfiancare forse anche per questo che corrono così tanto. Mi viene in mente che quello che ho sentito nella prima puntata di All or Nothing dedicata alla Juventus su Amazon in cui c'è Pirlo che quando gli fanno notare che i giocatori magari sono un po' stanchi durante gli allenamenti estivi, se questi dovranno provare con Conte arrivavamo che ci dovevamo sdraiare per terra perché eravamo completamente cotti. Quindi ogni allenatore naturalmente ha il suo metodo. La Juve di Conte era tutta intensità, se vi ricordate, molta cosa intensità, pressing, rifletteva un po' il suo carattere, diciamo così. L'Atalanta di Gasperini a sua volta è intensità, pressing, squadra corta, quindi può esserci anche una motivazione, anzi sicuramente c'è anche una motivazione di questo tipo sulla tenuta fisica di questa squadra, sul fatto che, se vi ricordate bene, nei periodi finali di stagione quando si dice che le altre squadre sono abbastanza provate fisicamente, ecco l'Atalanta invece è una delle squadre che corre di più. Un po' il contrario di quello che ha detto oggi Sarri per la Lazio che dice che soffrono la partita intrasettimanale. Poi sappiamo che Sarri è uno che si lamenta un po' di tutto, quindi c'è il campo lungo, c'è il campo corto, c'è il campo ghiacciato, c'è il campo che pioveva, vabbè, insomma, sappiamo che sono tante a volte le motivazioni che un allenatore, non so dicendo di Sarri, parlo in generale, tira fuori per l'andamento della propria squadra. Credo che uno dei pochi, che sostanzialmente non si sia mai lamentato di situazioni esterne, ma abbia sempre detto dobbiamo fare quello che il calendario ci dice, quello che la società ci dice, eccetera, sia Massimiliano Allegri, ma non perché voglio magnificare Massimiliano Allegri, semplicemente prendo atto del fatto che non ha mai tirato fuori una mezza polemica, ammesso che poi certe frasi arrivino a creare polemiche, perché, cito ancora Sarri, su certe cose può anche aver ragione, ma alla fine si fa dire che è quello che si lamenta sempre, che non accetta mai le situazioni, che deve sempre provare il pelo nell'uovo, eccetera. Ho divagato un po' sul tema, però mi aveva offerto lo spunto appunto la frase di Deniral che ha colto questa differenza. Allora io non credo che Allegri non si lavori, Allegri si lavora, probabilmente si è scelto un altro metodo, ma al di là di tutto questo non credo di vedere in campo una squadra che cala fisicamente nella seconda parte della partita o che abbia dei problemi dal punto di vista fisico di tenuta atletica di una gara, a parte che è molto presto per parlare, bisogna vedere poi in primavera quando ricominciano i doppi impegni, eccetera. Ma evidentemente ognuno ha il metodo proprio, poi c'è chi lo segue, chi sta attento, chi non sta attento. Questa storia qua di rabbio, sì, di rabbio che è stato ripreso un po' come succede a mio figlio in prima media fa un po' ridere, effettivamente, però ve l'ho detto, succede, succede. Vi avevo detto che avrei preso spunto da uno sondaggio che è stato fatto su Sport Mediaset su quale attaccante sarebbe il più gradito dai tifosi della Juventus e devo dire che lanciando lo stesso sondaggio sul nostro canale ho trovato esattamente gli stessi riscontri. Adesso esattamente le percentuali non sono stato in grado di calcolarle, però devo dire che se non è plebiscito è stragrande maggioranza per i carri, che in questo momento su Sport Mediaset stava ottenendo il 58% delle preferenze, al secondo c'è Scamacca col 30%, quindi siamo a 88, e un 12% di preferenze date a Martial. Leggendo i vostri commenti devo dire che siamo lì, siamo effettivamente lì perché ho letto un sacco di Icardi, 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 Icardi tutta la vita, poi se si vuole programmare o corre Scamacca, se si vuole una situazione di esperienza allora Martial, insomma ognuno poi ha differenziato un po', molti di voi, alcuni di voi hanno risposto Icardi per sei mesi e poi Vlaovic o comunque Icardi traghettatore e poi un altro attaccante. Non sono completamente d'accordo, al di là del fatto che comunque è un'operazione difficile portare Vlaovic anche a giugno, perché io sono convinto, io ho restato di questa idea ragazzi, è che innanzitutto che sia Icardi l'attaccante ideale per questa squadra e credo che sia un giocatore che se ritrova accanto a sé, attorno a sé, la fiducia di un ambiente, la fiducia di una squadra, la fiducia della gente, ti dà grandi soddisfazioni, ti dà grandi soddisfazioni, lasciate stare tutto ciò che lo contorna perché poi è il giocatore che deve andare in campo e non mi dite che con l'Inter, nonostante ci fosse la presenza di Van Danara, con l'Inter non faceva Icardi, ne faceva come Icardi e come se segnava. Poi è andato al Paris Saint Germain, al Paris Saint Germain all'inizio è andato bene, poi è chiaro ci sono tanti campioni, tante situazioni, tante scelte da fare, è anche quasi, non dico naturale, ma è comprensibile, è comprensibile che la parabola di Icardi si sia un po' curvata verso il basso, ok? Però io resto dell'idea che è un giocatore d'area, che sia una leggenda che non gioca per la squadra, è una leggenda che non gioca per la squadra, ragazzi. A volte vengono date delle etichette ai giocatori per cui fa cultura il fatto che non gioca per la squadra, no, Icardi non è che sta là ad aspettare la palla, non è vero che non gioca per la squadra, esce dall'area, partecipa alla manovra, è come se esce dall'area. E comunque è un giocatore importantissimo perché fa paura, ve lo ricordate il famoso Inter-Juve di Pianice? Perché l'Inter ha perso quella partita? Perché ha tolto Icardi, ha tolto Icardi sul 2 a 1, Icardi era incazzato nero, ve lo ricordate? Perché con Icardi in campo la Liova avrebbe avuto timore a scoprirsi, perché c'era lui là davanti che aveva anche segnato tra l'altro in quella partita, ok? Quindi è un giocatore, se tu gli dai, è un cobra d'area, sicuramente, ma gioca anche per la squadra. In area è micidiale, è micidiale, ha una visione della porta che pochi hanno, magari non è spettacolare, ma è micidiale e in questo momento credo che sia l'attaccante di cui lo aveva bisogno. La Liova ha bisogno, posso dirlo, del classico figlio di puttana d'area, detto proprio usando un francesismo visto che lui arriva dalla Francia, arriverebbe dalla Francia, ok? Ha bisogno di un giocatore così, il gol, il gol, il gol, il gol, ma sa giocare anche fuori dall'area, andatevelo a vedere un po'. Aumento di capitale 366 milioni e 9, quindi 367 milioni, lo ha sottoscritto il 91% degli aventi diritto, quindi direi un'ottima quota e soprattutto un ottimo attestato di fiducia nei confronti della società Juventus nonostante tutto quello che sta passando. Voi sapete che uno dei timori principali era che l'inchiesta in atto comportasse la dismissione degli impegni assunti e potevano farlo, era una giusta causa degli impegni assunti dai sottoscrittori dell'aumento di capitale, bene, io direi che si è ritirato un 9% che può anche rimanere lì, tra l'altro quella parte verrà ricollocata in borsa, adesso io non sono molto addentro nelle cose finanziarie, però mi sembra, mi sembra un ottimo attestato di stima e di fiducia nei confronti della società. Volevo dirvi di Mariani, il gol, il rigore con l'Inter perché salta sempre fuori, l'avete letto? Sono stati fatti ascoltare i dialoghi del VAR, Mariani non si era accorto del fallo, ok? Tutto regolare, tutto regolare, protocollo applicato alla perfezione, cosa detta davanti ai giornalisti e li sono invitati a vedere il VAR nelle partite di Coppa Italia e Rocchi ha parlato anche di questo caso. Caso chiuso, poi magari le Iene faranno qualcosa più avanti perché no, no, ma, ma, ma e ci metto un altro ma, però il caso è chiuso. Ciao! Iscrivetevi al canale!